Sguppa agli sgommati, vendola dedica a sé di Kipling a tutti quanti i lavoratori precari. Caro precario, se guadagni 800 euro al mese e riesci a conservare il controllo quando tutti intorno a te lo perdono, se riesci a comprare la carne almeno tre volte al mese mentre gli altri intorno a te mangiano solo pasta, se riesci a pagare il mutuo e la bellezza dei bambini, se riesci a prendere il caffè al bar, se riesci a giocare al super renalotto, se riesci a fare tutte queste cose con 800 euro al mese figlio mio, allora vuol dire che spacci. Gli sgommati, la satira su Sky 1!